Aumentano seppur di poco le imprese artigiane in Puglia. Ce n'erano 71.867 al primo trimestre di quest'anno, oggi sono 71.985. L'incremento è di 118 unità, pari allo 0,2% in più. Continua a calare invece il manifatturiero. In positivo la situazione in provincia di Lecce. Il Salento rappresenta il 25% delle imprese artigiane presenti in Puglia e si è registrata la creazione di 98 nuove imprese, pari ad un aumento dello 0,5% a fronte della chiusura di tre aziende nel capoluogo, di un più 0,2% in provincia di Brindisi, un più 0,3% in quella di Taranto e la morte di 13 unità a Foggia. E' quanto emerge dal quinto report sulle attività economiche elaborato dal Centro Studi di Confartigianato Imprese Puglia. Il saldo positivo è dovuto principalmente all'apertura di 69 ditte di costruzione. Anche le attività di servizi sono aumentate di 69 unità. Seguono le agenzie di viaggio e noleggio con un incremento di 27 unità. Diminuiscono invece le attività manifatturiere che hanno perso 21 unità. Negativo anche l'andamento del commercio all'ingrosso e al dettaglio che comprende per la maggior parte aziende erogatrici di servizi alle persone e alle imprese e del settore dei trasporti che registra la perdita di 16 imprese. I dati elaborati dal nostro Centro Studi regionale, commenta Francesco Sgherza, presidente di Confartigianato Imprese Puglia, registrano per la prima volta dopo molto tempo l'arrestarsi dell'emorragia delle imprese artigiane pugliesi. Certo parlare di inversione di tendenza è prematuro, ma quantomeno la caduta dei trimestri precedenti sembra essersi arrestata. Continua invece ad arrancare il manifatturiero, sebbene i dati del comparto dimostrino anche in questo caso un miglioramento della tendenza. Tutto ciò, continua il presidente, documenta ancora una volta che in un contesto decisamente sfavorevole, come quello descritto dal recente rapporto Svimitz sul Mezzogiorno, se ci sono imprese che continuano a nascere, quelle sono le imprese artigiane. Ecco perché è più che mai necessario supportare con maggior convinzione l'artigianato, riducendo gli ostacoli che ne minano lo sviluppo. Fisco, burocrazia, inefficienza dei servizi pubblici, criminalità. Sono queste le pesanti catene che impediscono alle piccole imprese e alle imprese artigiane di esprimere appieno il proprio potenziale e di guidare non solo la nostra regione, ma tutto il Mezzogiorno fuori dalle paludi in cui annaspa da decenni. Grazie.